Siamo arrivati a questa bellissima, il nostro luogo della Fondazione Santina. Questo è il buon pastore che abbiamo portato da Roma per l'impe e per il carcere. Come vedete è qui al suo posto. Siamo a 5050 metri, abbiamo re in alto che ci ha seguito nella costruzione e qui grazie a Santina Monsignor Luigi Ginami. Sono molto felice di essere qui con il direttore del carcere che ci ha ricevuto molto bene. Abbiamo celebrato la messa, abbiamo incontrato tutti i prigionieri, abbiamo dato a loro un biscotto e poi abbiamo avuto modo di incontrare personalmente alcune persone. È stata una messa di Natale meravigliosa. A tutti voi che ci seguite dall'Italia, un saluto cordiale.